Signor Arrigo Sacchi, secondo lei cosa non è andato nell'Italia che non si è qualificata ai mondiali? Secondo lei se ci fosse stato insigne sarebbe stato diverso? E vedi Sandro, no, non è una questione di insigne, è un fatto culturale. Voi pensate sempre che il calcio sia uno sport individuale, ma è un gioco di squadra. Voi dovete immaginare una squadra come una grande cooperativa che raccoglie le ciliegie. Non c'è un protagonista, sono tutti sulla scala con umiltà a raccogliere le ciliegie. Ho visto Svezia e Italia e non ho capito perché Italia ha perso contro una squadra che sembrava degli scaffali dell'Ikea. E Raimondo, quando lei parla di insigne, tenga conto che insigne è alto un cazzo e un barattolo. Non arriva nemmeno alla scala, cosa poteva fare con gli svedesi che sono alti due metri? Al massimo con i cappelli in signe poteva massaggiare i marroni. Ma no, a me dispiace per i ragazzi. Difatti è bene che ora l'Italia l'elenà Roberto Mancini. Ora il giacone da benzinaio della Nazionale l'ha indossa lui. La Lega ha fatto bene, ha cambiato l'allenatore, ma ovviamente non basta. Bisogna cambiare anche il giacone da benzinaio. Se non cambia il giacone da benzinaio, non so se dopo Mancini l'Italia troverà un allenatore. Perché si sa che Mancini ha gusti di merda. E' una cosa agghiacciante. Un'Italia che non era andata ai mondiali con San Piero Ventura. Che non è né un tecnico né un tattico. Io ho paura che tutto il calcio italiano con questa mancata qualificazione sia crollato. L'Italia che non va ai mondiali è la metà forfora del paese agghiacciante. Guardi Sandro, Ventura è stato anche un bravo allenatore. Quando ho allenato i club ha fatto abbastanza bene. Magari non ha avuto una carriera straordinaria come la mia. E tenga conto che io sono arrivato in finale col Brasile. Però Ventura ha allenato tante squadre. Torino, il Cagliari. Tutte delle realtà non straordinarie. Non ha mai vinto uno squadetto di Serie A. Non ha mai vinto una Champions. Non ha nemmeno vinto una Coppa Italia. Ecco, diciamocelo. Ventura non ha mai vinto un cazzo. Secondo lei qual è il problema della nazionale? Per me ha ragione Fassino. Che dice che in Italia non c'è la USOL. Se ci fosse la USOL nell'Italia ci sarebbe molti più giocatori neri come Ballotelli. Come Mario. Io giro per l'Italia non vedo gente nera. Non vedo neanche un nero. Giro per Manchester vedo tutti neri. Non vedo gente nera che si chiama Parode Brambilla. C'è solo Ballotelli. Comunque non credo che dopo Mancini ci possa essere qualcuno che possa venire in Italia ad allenare la nazionale. Non perché la gente sia impegnata ma la gente è impegnativa. gli allenatori non potranno prendere i miei soldi troppo poco un milione e mezzo e lo stipendio di un magazziniere. La gente con lo stipendio che prendevo io si prende il balsamo per un mese soprattutto Mancini. Balsamo di cui non ho bisogno per quello a me andava bene quello stipendio perché io non ho bisogno del balsamo. Datemi del coglione ma mi andava bene. Volete insultare mia sorella? Insultartela. Però non è colpa di Ventura secondo lei? No. Io conosco molto bene Giancarlo Ventura. Giampiero? Sì scuse. Giancarlo Giampiero. No Ventura. Sì scuse è stata una brutta avventura quella di Giancarlo Giampiero. Bravo allenatore. Non una carriera eccellenza. Quando io vinto triplette con Inter chiedo che lui allenava a Bari o Pisa due squadre non eccelsi. Dopo di lui hanno cambiato sport a Bari e a Pisa. Adesso a Bari e a Pisa giocano a pallonuoto. Ma come dicono gli inglesi invece è un massica gomma. Sono antipatico perché parlo inglese e paura.